Informazione e formazione con modalità molto interattive e con workshop dedicati ai farmacisti ospedalieri. E' di questo che si occupa il progetto Pronti che oggi raggiunge la campania, quindi la tappa campania, per informare anche qui tutti i farmacisti ospedalieri desiderosi di avere maggiori nozioni su normative, acquisi e PDTA per quanto riguarda le malattie rare. Abbiamo cercato di capire meglio e di approfondire questo progetto con il dottor Cesare Pisacane. Come nasce il progetto Pronti e quando nasce? Il progetto Pronti nasce da un'idea nata circa due anni fa durante i nostri incontri con i farmacisti ospedalieri. La prima fase del progetto è consistita nei incontri face to face con alcuni stecord regionali da quali sono emersi alcuni bisogni formativi. Dopodiché siamo passati a un'indagine attraverso dei questionari che sono stati sottoposti sia alla SIFO del 2017 e sia alla SIFO del 2018, dove sono emersi alcuni bisogni formativi che sono essenzialmente quelli che riguardano il mondo delle malattie rare e gli argomenti di cui i farmacisti avevano necessità formative sono stati essenzialmente quelli di riguardo all'accesso ai farmaci malattie rare, all'acquisto dei farmaci per malattie rare con tutta la normativa nuova, il nuovo codice degli appalti e al PDTA. Nello specifico hanno chiesto un approfondimento formativo sul PDTA dell'emofilia. Oggi siamo a Napoli, Regione Campania, e stiamo proponendo questa formazione ai farmacisti ospedalieri della Regione Campania. Avete iniziato in realtà già in altre regioni. A che punto è dello sviluppo il progetto? Il progetto è partito col progetto pilota in Toscana alla fine del 2018, dove i farmacisti in una nuova modalità di formazione, perché questo è il punto che io vorrei sottolineare, non si tratta del solito evento frontale in cui i discenti ascoltano i relatori e sì, ok, c'è la discussione, fanno una relazione nell'altra, ma hanno avuto l'opportunità nella seconda parte dell'incontro e in particolare nel pomeriggio, quello di dividersi in gruppi di lavoro tipo workshop, in cui attraverso, grazie alla presenza di due tutor per ogni workshop, hanno potuto sviluppare, non è tutto mettere sul piatto le proprie esperienze, poi le criticità dei loro ambienti di lavoro, nelle strutture ospedali dove lavorano i discenti, ma soprattutto delle proposte per cercare poi di portarle alle proprie direzioni azientali o regionali. Quindi si è fatto l'evento a Firenze e ha avuto un grande successo. Questo è il secondo incontro a Napoli, dove anche qui il successo e la partecipazione è stata estremamente sentita, importante e fattiva. Proseguiremo con questo progetto a livello nazionale in altre regioni. Grazie a tutti.